Ci sono due cose che mi piacciono molto. La prima è studiare e la seconda è aiutare gli altri. Contrare la morte e la nascita. E che morte e vita sono nella vita. Minirei i pregiudizi. Agirei la carità del video. Amare e conoscere. Fidati del vento, siamo vele in movimento. Anime presenti, spazi senza tempo. Nuvole nell'aria, respiri. Passaggi Dai luoghi comuni, dalle scuse, dalla sete, dalla povertà, delle illusioni e dalle offese. Hai sentito quanta fame c'è nell'aria di un cambiamento. Dove siamo rimasti? Cosa abbiamo perduto? Nella fretta del tempo, nel potere del nulla. Il valore di un pianto Il respiro profondo Delle piccole cose Non saremo distanti dai bisogni del mondo Perché nessuno si salva da solo È il momento di trovare un equilibrio Penso che domani affronterò la vita in maniera molto diversa Perché mi sono molto chiusa Posità Delle